Diego c'è incontro di me! Mi chiamo Michael Ferrucci, ho 16 anni, sono alto 1,81 e peso 68 kg. Il mio soprannome è Oliver Seek e se si spera di arrivare un buon risultato. Come ti è venuta l'idea di partecipare al torneo? Me l'ha proposto Diego. Ok, mi ha fatto molto piacere che hai aderito senza conoscerle in prima persona. Per cui ti auguro di andare avanti e spero di intervistarti negli otto finalisti. Grazie. Ciao.